Adesso andiamo alle terme. Avere i bagni in casa era un russo per i ricchi. Era un russo per i ricchi. Le più importanti terme erano quelle fatte erigere dall'imperatore Caracalla e potevano spiegare fino a 1600 persone. Nelle terme c'era la palestra dove si praticava la lotta al pugilato. In più c'era il natataio dove i bambini nascevano.